Buonasera, eh giovani, adesso tu devi andare a provare, prova quella lì e poi fammi sapere, hai capito? No, no, adesso è molto freddo. Ma com'è freddo? Non fa freddo, vieni, vieni qua. Come mai? Fuori quando è caduta neve. No, 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 non fa niente, vieni, sei giovane, io vecchio e ho 70 anni, capito? Che tu? Dove il tuo bastone? Eh ma il bastone mi hanno rubato i giovani di oggi, dove il bastone? Mi hanno fregato. Sei male tu in schiena? Eh sì sì, sono vecchio. Come ha detto questo? Come niente, ci vediamo, ciao. Ciao, va bene, ci vediamo domani. Ok. Ciao, ciao, bello.